Non solo ospedali ma anche territorio, tante volte lo diciamo, per noi non è importante, pur considerando il valore, l'ospedale per acuti, che gli ospedali per acuti devono essere sempre meno, sempre più concentrati, molto importante è il territorio e chi diventa ospedale di comunità non deve pensare di valere meno o che sia un punto morto, un punto finale, un punto di caduta nel proprio percorso perché noi continuiamo ad investire negli ospedali di comunità come si fa negli ospedali per acuti. E' chiaro che sono investimenti mirati a servizi di natura territoriale ma di grande importanza. Un nuovo impianto, un nuovo apparecchio, la MOC che guarda lo stato della situazione ossea, mirata per tecnologie in modo particolare per donne che stanno facendo chemioterapia, è uno strumento di grandissimo valore, di grande importanza, sta benissimo in ospedale di comunità, testimonia quello che vi dicevo, per avere un sistema che funziona deve funzionare in tutte le parti e la regione che di questo è consapevole ha fatto le scelte strategiche e sono di investire sia per nuovi ospedali per acuti, sempre più tecnologici, sempre più performanti, sempre più concentrati, ma anche per una presenza diffusa nel territorio di servizi essenziali per la nostra popolazione.